Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TgWebList del Consiglio regionale della Basilicata. I lavoratori di diverse aziende del trasporto pubblico locale vivono una condizione di grave disagio economico a causa del mancato pagamento delle ultime mensilità. Una crisi innescata dal debito maturato dal governo regionale nei confronti del Cotrab. Il consigliere Rosa ricorda che il governo regionale si era impegnato a mettere a disposizione 8 milioni per fronteggiare la situazione, ma non si è avuto nessun riscontro. Ancora una volta, dice Rosa, la Giunta si dimostra inadatta a gestire situazioni che dovrebbero essere di ordinaria amministrazione. Per Perrino si tratta dell'ennesima dimostrazione della totale incapacità del governo regionale nel far rispettare e nel realizzare i sacrosanti diritti dei cittadini. Via Libera, in terza commissione, alla proposta di legge che disciplina la macellazione e la vendita diretta di piccoli quantitativi di carne nelle aziende zootecniche e negli agriturismi collegati, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, di benessere animale e della tracciabilità. Soddisfatti i promotori dell'iniziativa di legge, per Robortella il provvedimento viene incontro alle esigenze delle piccole aziende che ne ricavano un incentivo alla gestione interna. I tanti operatori del settore potranno ampliare l'offerta di produzioni proprie, rafforzare la filiera e promuovere la tipicità dei prodotti, afferma Cifarelli, auspicando un rapido iter per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Si chiama resistenza agli antibiotici e capita quando un batterio risulta resistente all'attività di un farmaco, rendendo inefficace la cura. Per contrastare questo fenomeno, sempre più diffuso e preoccupante, il Consiglio regionale ha approvato una mozione proposta dai consiglieri Napoli e Bradascio, con la quale si impegna la Giunta ad istituire un sistema di monitoraggio delle resistenze antibiotiche, favorendo e incentivando la rete dei laboratori di microbiologia sul territorio regionale. L'8 marzo è una straordinaria occasione per affermare il diritto delle donne all'istruzione, al lavoro, all'autodeterminazione. Lo afferma la Presidente della Commissione pari opportunità, Blasi, che chiama a raccolta tutte le donne per una battaglia limpida e netta anche di ordine culturale, perché è la cultura che va cambiata ed è arrivato il momento di rompere il silenzio, soprattutto quello degli uomini. Nella città di Matera, porta d'ingresso del turismo in Basilicata, serve una sede prestigiosa dell'Apt. Lo sostiene il Consigliere Spada, che condivide la scelta della Regione di mettere a disposizione alcuni ambienti di Palazzo dell'Annunziata, uno snodo centrale dell'urbanistica e della storia cittadina, per gli uffici dell'azienda di promozione turistica. Intervenire tempestivamente in aiuto dell'Avis, che rischia di essere sfrattata dalla sede di potenza perché la Regione non paga l'affitto, come previsto da una Convenzione. È quanto chiede una mozione approvata dal Consiglio regionale su proposta di Polese, il quale evidenzia il ruolo strategico e determinante che l'Avis riveste in Basilicata per la raccolta del sangue. Approvata anche una mozione proposta da Romaniello, che impegna il Presidente della Regione a predisporre un intervento straordinario di monitoraggio ambientale nell'area delle estrazioni petrolifere dopo il sequestro di un pozzetto nel depuratore del centro oli di Vigiano. L'impianto è vicino alla diga del Pertusillo, che fornisce acqua alla Puglia e alla Basilicata. Nuove analisi dell'acqua del Pertusillo vengono sollecitate anche con un'altra mozione approvata dal Consiglio regionale su proposta di Leggeri, che chiede di impegnare ARPA, Università ed Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale anche per specifiche e dettagliate indagini chimiche e fisiche delle acque e degli altri invasi della Regione. È tutto, grazie per l'attenzione prestata e arrivederci alla prossima edizione. Grazie 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 a tutti.